anche il sindaco è originato di Caspoli le mie origini sono caspolese sono un verdure che proviene da Caspoli perciò prima ha perdonato se ha parlato di Mignano buonasera a tutti, io colgo l'occasione solo per darvi un benvenuto a Caspoli ci tenevo a dire Caspoli e non Mignano perché noi siamo un po' esosi, tendiamo sempre a distinguerci e poi volevo ringraziare sempre Angelo e Maria perché ci danno l'occasione sempre per conoscere nuovi libri nuove esperienze culturali, io le chiamo così vi ringrazio tutti e io cedo la parola ai relatori